Ma che cosa succede ragazzi come visione di mercato in queste fasi dove il prezzo sta toccando un numero rotondo psicologico come questo 50.000 dollari? Succede che il mercato si spacca un po' in due perché il mercato è fatto per il 99% di scommettitori. Qualcuno magari pensa di essere un trader, in realtà la maggior parte sono scommettitori. C'è chi scommette che Bitcoin rompe i 50.000 e va verso l'alto sparato e quindi che cosa fa? Appena Bitcoin rompe i 50.000 entra a mercato con delle posizioni long e c'è chi invece dice no i 50.000 non li toccherà mai quindi io entro a mercato con una posizione short cioè guadagno se il prezzo va verso il basso e metto lo stop loss proprio appena sopra i 50.000. Ok? Perché il problema di fare trading è che ci va uno stop loss altrimenti io rischio di perdere tutto quindi tutti mettono uno stop loss che serve per dire più di questo non voglio perdere in questa operazione altrimenti rischierai di perdere ogni operazione e tutto il conto. Questo succede in particolare con gli expert advisor, con i programmi che sono molto usati che adesso vedremo anche qualche caso studio proprio reale. Sul grafico giornaliero già si intuisce, per chi ha l'occhio già si intuisce ma si vede ancora meglio naturalmente sul grafico orario. Vedete che ci sono delle candele e a un certo punto ieri c'è stato un movimento verso il basso respinto questo movimento verso il basso è quello che ha fatto pensare le persone ok? I 50.000 dollari che sono qui in alto vedete i 50.000 dollari hanno respinto il prezzo è andato verso il basso, sta scendendo quindi io cosa faccio? Apro operazioni short e metto lo stop loss sopra i 50.000 quindi in questa situazione moltissimi trader erano in macchina con operazioni short stop loss sopra i 50.000 dopodiché il prezzo ha fatto quest'altro movimento e oggi ha bucato i 50.000 l'ha bucato in candele, possiamo andare anche in time frame più piccoli, 5 minuti per vedere come l'ha bucato in un momento particolare che è durato poco è durato mezz'oretta e poi in 5 minuti vedete come è andato giù questo movimento ha fatto prendere lo stop loss a tutti quelli che avevano le posizioni short quindi il banco vince, tutti quelli che avevano posizioni short hanno perso una parte dei loro soldi e la posizione short si è chiusa ora però sono anche state aperte posizioni long perché siamo andati sopra i 50.000, vedete siamo arrivati a 50.000 640 quindi qui tutti euforici posizioni long in un attimo questa candelona ha bruciato le posizioni long ha fatto prendere gli stop loss anche delle posizioni long e laddove non ce l'ha fatta questa candelona ci ha pensato poi questo l'intracciamento ok? Forte questa cosa? e dite ma allora se i mercati sono manipolati perché facciamo trading? perché sapendo come sono manipolati è più facile guadagnare è molto più facile guadagnare e in questi due anni che vi ho fatto fare tonnellate di profitti con bitcoin penso di avervelo dimostrato ampiamente andiamo a vedere nella pratica come funziona però con gli expert advisor vi faccio vedere i nostri bottini allora questi sono degli expert advisor che girano regolarmente sulle piattaforme sono basati su una mia strategia e quella che utilizzo da anni per fare profitto sono profittevoli nel lungo periodo vi faccio vedere per esempio bitcoin explosion partito con un capitale di 5.000 euro questa è la prima operazione che sta facendo e sta guadagnando più del 100% 110% vedete che la mia equity è di 10.504 euro cioè se io chiudessi l'operazione adesso porterei a casa questo profitto ma non solo lea ha preso questo stop loss che all'inizio era uno stop loss e piano piano l'ha spostato sempre più su fino a quando è diventata una blindatura cioè anche se il prezzo veniva giù io facevo zero e poi piano piano segue il prezzo fino a diventare uno stop profit infatti in questo momento vedete che se ci vado sopra mi dice che intercettando questa linea io guadagno 3.900 euro vuol dire che 3.900 euro circa l'80% è il mio guadagno garantito da questa operazione quindi nel peggiore dei casi adesso guadagno l'80% cavolo bella potenza ok tanto per un'operazione sola con un ea 100% la prima operazione due settimane mamma mia tantissimo siamo proprio contenti quest'altro ea etilium capitale dimezzato ha fatto un'operazione in profitto da 750 euro e poi ha preso uno stop loss da 186 euro guardate come l'ha preso lo stop loss qui è il punto di ingresso dove è entrato vi ricordate il grafico di prima? questo è un grafico H1 vedete che a seguito di una serie di candele verdi lui a un certo punto decide che il prezzo ha dato un segnale di poter andare long e si posiziona long posiziona anche uno stop loss qua sotto dove poi l'abbiamo intercettato bello di sicurezza il prezzo ha fatto tutta la sua bella strada è andato su quindi ha fatto quello che doveva fare poi c'è stata la manipolazione di mercato e vedete che in pochissimo tempo siamo andati violentemente a prendere uno stop loss questa velocità impedisce alle a di andare a proteggersi troppo quindi abbiamo comunque limitato i danni perché non è stato uno stop loss pieno però è arrivato uno stop loss improvviso come un fulmine perché si utilizza un ea per fare questo tipo di operatività? beh prima di tutto perché lea lavora H24 anche di notte quindi nel lungo periodo fa molte più operazioni e poi lea non sbaglia mai non è emotivo immagina che tu stavi davanti al grafico e vedevi il prezzo piombare giù e dici cavolo sta piombando giù devo assolutamente chiudere la mia operazione e poi che cosa fai? fai delle azioni che si possono ritorcere contro di te insomma sedi davanti al grafico a guardare la candela che va su che va giù magari la vedi andare giù in fretta dice manipolazione sposti lo stop loss per dire tanto non lo prendo e poi recupera e invece quella volta va giù tantissimo e perdi il doppio il triplo di quello che devi perdere ok questo succede agli utenti inesperti sicuramente non ai trader che lo fanno da tanto tempo di esperienza come posso essere io però lo dico innanzitutto per questo la seconda ragione per cui si utilizzano le a è che i trader evoluti chiamiamoli così in questo modo non hanno voglia di stare davanti al grafico tutto il giorno a me piacciono le attività libere non voglio stare davanti al grafico tutto il giorno a vedere come si muove il prezzo quindi posso fare per esempio un'operatività dove ogni giorno guardo il grafico 10 minuti la sera va bene però questo mi potrebbe far arrivare tardi magari un profitto era da chiudere a mezzogiorno un loss era da chiudere alle 3 del pomeriggio vedendolo la sera a volte ho un guadagno più piccolo o anche una perdita più grossa di quella che potrei avere se stessi davanti al grafico H24 ecco che invece automatizzando tutto con le a il profitto aumenta però le a è anche soggetto a queste manipolazioni di mercato quindi fa sì tanto tanto profitto però fa anche degli swing cioè c'è anche il caso che perde il 20, il 30, il 40% del capitale versato che non è mai il capitale vero è solo quello versato noi poi abbiamo una scorta abbiamo il nostro money management però non è bello vedere un conto da 2005 scendere a 1500 e avere la capacità di rimanere tranquilli non è facile è per persone più esperte ecco perché nel livello al lavoro le entrate automatiche che sembrerebbe la cosa più facile da fare non le diamo subito le consigliamo più avanti nel percorso quando uno si è allenato a gestire questi tipi di swing tra l'altro le nostre entrate automatiche sono le uniche che le scarichi funzionano subito gratis in regalo paghi solo dopo che hai guadagnato quindi finché non hai guadagnato non si paga nessuna licenza software una cosa che la fuori non esiste questo ti garantisce che noi cerchiamo di fare il massimo per farti guadagnare altrimenti non guadagniamo neanche noi se dovessi scaricare il classico A che non funziona poi in realtà noi non guadagniamo veramente nulla stesso A su Litecoin molto interessante che su Litecoin capitale molto piccolo su Litecoin perché è un cambio più problematico e sta facendo bene sta facendo 30% sul capitale del 50 di 500 euro e soprattutto abbiamo anche qua un profitto garantito di 60 euro che sono il 12% quindi molto interessante non si utilizzavano gli A fino a qualche tempo fa facevo solo trading manuale e condividevo la mia operatività con gli utenti attraverso i classici abbonamenti perché le piattaforme di blocchieraggio cioè queste non avevano condizioni favorevoli cioè avevano commissioni talmente alte spread talmente alti che non si riusciva a fare profitto non era conveniente di recente questa cosa è cambiata e sta andando migliorando quindi finalmente quest'anno siamo potuti uscire con questi E.A. lavorare sugli exchange attraverso le API non era un'opzione troppo lente troppe problematiche e quindi fino adesso abbiamo fatto un altro tipo di operatività questi E.A. sono scaricabili dal sito poi sto provando due E.A. nuovi che invece sono le versioni Turbo ve le faccio vedere si chiamano appunto Turbo Bitcoin e Turbo Ethereum questi E.A. lavorano su time frame molto 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 piccoli quindi sono ancora più soggetti alle manipolazioni di mercato però possono fare tante operazioni al giorno e quindi produrre un guadagno più alto noi li abbiamo ancora messi non abbiamo dato la possibilità di scaricarli perché? perché mentre gli altri E.A. si basano su una strategia che io ho fatto per anni in quei time frame che è profittevole e hanno dei backtest più affidabili perché si basano su time frame più grossi questi E.A. che si basano su time frame molto piccoli non hanno uno storico reale perché io non faccio questa operatività davanti al monitor del computer e i backtest sono meno affidabili quindi prima di lanciarli li teniamo sui nostri conti reali per un po' conti piccolini abbiamo messo su questo 1000 euro e su quest'altro 500 ok hanno preso i primi loss perché? perché il prezzo in questo momento è molto manipolato siamo in fase laterale di mercato guardate infatti l'operazione questa che è entrata oggi la vedete appena il prezzo ha superato un punto critico l'E.A. ha detto stiamo andando verso l'alto e infatti così era e poi c'è stata questa forte manipolazione abbiamo resistito a questa candela perché l'E.A. conosce le manipolazioni glielo ho insegnate io glielo ho programmato io ma poi non abbiamo resistito a quest'altro l'intracciamento che ci ha fatto chiudere l'operazione in realtà quasi in pari abbiamo avuto una perdita di 3,59 euro ok quindi se l'E.A. è furbo resiste alla manipolazione di mercato non sempre però ce la fa ci sono altri momenti andiamo su un time frame H1 per apprezzarli ci sono altri momenti dove vedete in questo caso è entrato sempre il prezzo che sta andando su l'E.A. si convince che siamo in trend long va long poi a un certo punto stop loss haunting prendiamo lo stop loss e l'abbiamo limitato perché se non l'avessimo preso qui l'avremmo preso più in basso e sarebbe stato più grande e poi il prezzo di parte verso l'alto questo tipo di manipolazione del mercato è all'ordine del giorno gli istituzionali lo fanno costantemente è questo motivo per cui è molto molto difficile fare trading perché bisogna tenere conto di queste dinamiche e usarle a proprio vantaggio